ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto dal titolo è ufficiale finalmente rockstar games parla di gta 6 con il tweet di cui già vi avevo parlato e abbiamo anticipato insomma un po di tempo fa infatti come per ogni gioco rockstar games se ne uscita con il tweet già da ieri piccolo recap anzi questa mattina tipo alle 3 di notte jason scherer ha detto che l'annuncio di gta 6 ci sarebbe stato insomma entro la fine di questa settimana guarda caso domani c'è la conferenza con gli investitori con take to interactive in ogni caso rockstar games ha confermato finalmente dopo dieci anni che per il loro venticinquesimo anniversario quindi nel mese prossimo ci sarà il trailer ufficiale di gta 6 questo non è ovviamente una notizia fake viene dal profilo ufficiale di rockstar games e come vedete qui ringraziano tutto quanto per la dedizione e per insomma gli anni trascorsi sul gioco date la voce ragazzi ma ovviamente sono passati dieci anni in più ho dovuto fare una corsa incredibile infatti in questo momento non sono a casa ma sono ovviamente nel parcheggio prima dell'inizio delle lezioni quindi ovviamente indovinate un po dove mi ritrovo a fare i video quindi vabbè comunque ragazzi dedizione come al solito mi raccomando questo qui è un video storico quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto visto che tratteremo gta 6 che probabilmente uscirà già l'anno prossimo comunque poi probabilmente il giorno della dell'uscita insomma del trailer faremo una live una diretta in cui lo vedremo insieme e quindi come vedete qui vi ripeto hanno messo vari tweet tutti insieme in cui ringrazio tutto quanto e il messaggio firmato da se mauser ovvero il uno delle persone principali di rockstar games dove confermano che nei primi di dicembre uscirà il trailer di gta 5 molto molto probabilmente vi ripeto per con il 25esimo anno di rockstar games che ci sarà il mese prossimo comunque ragazzi ci siamo non so che altro dire scusate ma sono un attimo in hype e avrei anche da fare però in ogni caso ragazzi vi ripeto adesso ufficiale il trailer vi ripeto arriverà i primi di dicembre quindi manca meno di un mese al trailer di gta 6 per vedere effettivamente cosa ci darà in serbo rockstar games con questo nuovo titolo ovviamente in caso ci dovessero essere aggiornamenti tranquilli che come vedete appena esce qualcosa di nuovo ve lo faccio sapere subito e niente secondo me volevo fare semplicemente questo video per informarvi non ho fatto il video stamattina perché mi sembrava inutile insomma io mi aspettavo il un annuncio ufficiale appunto come c'è stato adesso appunto oggi infatti non ho fatto il video mi ha detto bene comunque niente ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti sono in hype complimenti a chi ha investito a proposito nelle azioni di take to interactive comunque vabbè vi ringrazio veramente tanto per la visione e niente vi voglio bene